Il futuro dell'Europa è proprio qui, oggi, in questa sala. Quel futuro ha il vostro volto e cammina sulle vostre gambe. Non ha dubbi l'europarlamentare molisano Aldo Patriciello sul tema Europa e sulla necessità che siano proprio i giovani a darle forza. Lo ha ripetuto nel corso del meeting dal titolo Do You Know Europa? che si è svolto presso l'auditorium del liceo scientifico di Santa Croce di Maiano. Un'iniziativa del Comitato Europeo delle Regioni che offre ai cittadini la possibilità di esprimere le loro preoccupazioni, riflessioni e idee sul futuro dell'Unione. Un'Europa che deve vedere protagonisti proprio i giovani. Perché siete voi i cittadini dell'Europa del domani, ha sottolineato ancora l'onorevole Patriciello rivolgendosi ai ragazzi presenti. Ad una condizione però, essere attori del cambiamento che immaginate per voi stessi e non spettatori passivi. La dimensione europea e ancora l'europarlamentare è una realtà da cui non si può prescindere. Tocca a voi sfruttarne le enormi opportunità. Del resto, lo spazio dei Paesi dell'Unione costituisce una prospettiva allettante per i giovani. Molti di loro la vedono come un'opportunità di creare veramente una comunità più vasta di uomini e donne che possano cercare punti di contatto tra culture e tradizioni che già oggi hanno una forte radice comune. L'Europa offre naturalmente anche l'opportunità di lavorare, di viaggiare, di ampliare i propri orizzonti e non sentirsi più chiusi nei nostri ormai troppo angusti confini nazionali. Ecco perché, ha concluso l'onorevole Patriciello, quell'attaccamento che ormai molti ragazzi sentono nei confronti del nostro continente e dei nostri valori deve trovare un momento ancora più forte. Grazie. 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 Grazie.